Sembra strano dirvelo oggi al termine di una bella giornata di sole, ma il tempo sta per cambiare e stanno arrivando le piogge più intense di tutto il 2022. L'autunno non si è mai visto, qualche timida pioggerellina non ha certo invertito finora i dati che parlano dell'anno più siccitoso che si ricordi e le temperature ancora oggi sono quasi più quelle di un settembre avanzato che della fine di novembre. Eppure qualcosa sta per cambiare con l'arrivo, già a partire da domani sera, di una perturbazione più forte delle precedenti, anzi più forte di tutte quelle viste finora nel 2022. Cadranno sul Vicentino complessivamente oltre 50-60 mm di pioggia sulle zone pianeggianti e sono pensate delle cumulate che non si sono mai viste nell'anno 2022. Diventerà quindi questo il sistema perturbato più acuto dell'intero anno solare. Arriva quindi un'inversione di tendenza che dovrà essere tenuta ben sotto controllo nel Vicentino come nel Veneto a cominciare da Venezia. In laguna a metà mattina l'onda di marea potrebbe raggiungere i 150 cm, determinando l'entrata in funzione del Mose mettendolo quindi a prova. Notizie confortanti arrivano per la montagna che potrebbe vedere arrivare la primavera e consistente nevicata utile per iniziare a preparare le piste in vista della stagione sciistica natalizia. Arriverà anche la neve in montagna già dalla notte a quote di poco superiori ai 1000 metri. Poi nella mattinata di martedì la quota neve tenderà temporaneamente a rialzarsi per poi scendere nuovamente in serata. Tanto che a quote superiori ai 1400-1500 metri le cumulate potrebbero essere consistenti. Da mercoledì torna il sole ma le temperature dovrebbero finalmente riallinearsi a quelle normali per la stagione.